Mary Jane ASMR Bentrovati Bentornati Com'è stato? Spero Com'è stato? Com'è stato? Com'è stato? Allora In questo video Ho deciso di rilassare con un body Camera Camera Brushing Scopo Com'è stato? Com'è stato? In questo video parlando di pensieri positivi per non sentirvi triste, voglio essere di supporto, supporto morale e poi guardare il video con una bella calda un tangent cento, 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 a zero perché in effetti countdown il mio canale non ce ne sono, ce ne è soltanto uno quindi in questo video ho deciso di curarmi così e spero di riuscire 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 amare rilassati 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 spessissimo giro come sapete i miei video di notte 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 perchè ovviamente c'è più calma più serenità non ci sono disturbi tranne qualche visita di luna la mia casa o meno la mia colletta ebbene sì sono loro spesso che fanno sì che nei miei video ci siano tagli perchè a volte luna salda sul tavolo mentre registro o mi inizia a rotecchiare il divano ecco l'avete sentito? allora mi dobbiamo tagliare nonostante nonostante il silenzio appena saldata la sedia ui questo video sarà abbracciato qualche tanto però meno male che ci sono loro a riempire le nostre vite perchè gli animali portano una luce 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 una luce immensa fanno sì che tutto assuma nuovo colore che si possono con loro dimenticare i momenti puoi i momenti gritti 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 dell'altra che di voi ha almeno un animale in casa caro gatto coniglio qualsiasi animale può capire cosa io stia dicendo a mio avviso a mio avviso sono come dei fratelli come dei figli perchè bisogna prendersi cura bisogna prendersi molta cura di loro lei si pensa lei pensa che io sono in live ragazze perchè sapete che nelle live lei spesso partecipa partecipa allora alle mie live su tik tok o sulla piattaforma viola a proposito la sera mi trovate in tutte le sere una piattaforma viola in live perchè ancora non lo sapete io ho fatto lei tutte 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 le sere e compagnia di luna come potete notare anche adesso allora ragazzi questo è il momento di lasciare andare tutti i miei 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 della giornata perchè 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 è il momento di lavarci, di dormire e dobbiamo concentrarci concentrarci sulle cose belle che abbiamo fatto, che faremo in qualsiasi momento voi stiate passando negativo, dovete rimanere sereni, perché i momenti di periodi difficili così come arrivano, così passano. Sappiate che se state vivendo un momento, no con la famiglia o con la scuola o con gli amici o a lavoro. Sappiate che non c'è nulla non c'è nulla non non dovete non c'è nulla non c'è nulla perciò non dovete temer non c'è nulla 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 splenda, splenda sempre per tutti perciò via 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 liberatevi dai pensieri che non vi fanno stare bene, che non vi fanno addormentare no 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 via 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 i brutti i brutti 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 pensieri, svuotatela, svuotatela la vostra mente alleggerite la vostra testa, riempitela di buoni propositi riempitela di buoni propositi provate a fare una posseggiata con le amiche o con gli amici per spagare un po' la spina dai pensieri, dai brugli e dal mondo che più ci ricorda cercate di darci un taglio alle cose siate un po' più leggere se siete troppo impegnati, concentrate, siate un po' più leggere a volte un po' di leggerezza va bene? un po' di leggerezza e vi sentirete meglio con il passare dei giorni in sottofondo abbiamo la dolce masticazione di luna sto mangiando i suoi croccantini di là in cucina spero non sia elemento di disturbo e dovrò tagliarli perchè a me sinceramente non dispiace sentirla spero come troppo in fase di editing cosa ne verrà fuori adesso, adesso per farti addormentare o cercare di farti addormentare però perdere il countdown countdown, countdown, countdown quando alargis la 180 180 90 90 90 90 90 90 90 90 96 90 90 novantacinque novantacuantra novantatrat novantatua novantatua novanta 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 otantat otantat otantasette 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 otantacinque otantacquattro otantatre otantadue otantant otantacquattro 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 settantanove settantanove settantotto settantdessus settantse septettacinque settantacinque settantacquattro 70 70 72 72 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 61 60 59 65 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 66 66 46 46 45 45 46 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 47 47 3, 2, 3, 2, 3, 2, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 29, 28, 28, 29, 27, 26, 25, ventiquattro ventitré ventidue ventuno venti diciannove diciotto diciannetto setici quittici quattordici tredici dodici undici dieci nove otto sette sei cinque quattro tres du uno zaru hi ai buona not ttt–tt–tt–tt–t–t–t–t–t–t–t–t. Son air Grazie a tutti